Bentrovati e bentrovate dal vostro Andrea Cartotto, una nuova puntata del Cartotto Educational dedicata alla storia, e quindi puntata anche dedicata ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze. La prima guerra mondiale si studia sui libri di storia, ma percorrerne i luoghi è veramente un'altra esperienza ed anche un'altra emozione. Pensate a come veniva combattuta la guerra. Facciamo un po' un parallelo. Prima guerra mondiale, periodo breve 1914-1918, a spanne 10 milioni di vittime considerate senza contare i civili. Seconda guerra mondiale, periodo più lungo, ne la chiamiamo la guerra tra virgolette terminata nel 45, tra 60 e 68 milioni di vittime civili e militari, ma appunto in un arco di tempo più lungo e con in mezzo il terribile genocidio degli ebrei e non solo. Bene, in questo luogo cosa possiamo andare a vedere? Ci troviamo in Trentino, Alto Adige, in quota, qui siamo in località Fango, al freddo. Pensate anche alla carenza d'acqua potabile che c'era perché l'acqua si scioglieva dai ghiacciai e veniva bevuta. Pensate alle condizioni in cui i soldati dei due fronti combattevano. Montagne, bosco, come potete vedere. E qui alle mie spalle una postazione austro-ungarica con mitragliatrice di cui si vedono ancora i resti. Guardate, eccola, eccola qua, eccola qua. Qui noi abbiamo i fori, il filo spinato ancora presente e la mitragliatrice era puntata verso il nemico. In realtà anche dal punto di vista geografico, dal punto di vista urbanistico del paesaggio la situazione non era questa. Il bosco non c'era, molti bunker, molti altri luoghi presenti in questo territorio sono stati poi ricoperti, interrati già dagli anni venti per andare ad effettuare una operazione di riposa del foraggio. Quindi insomma anche la sussistenza della popolazione era importante. Se ci spostiamo appena a sinistra vediamo invece quelli che si chiamano o quello che si chiama il sedime di baracca. Perché in effetti immaginate nei boschi una struttura che era diffusa in maniera capillare, ci si riparava dal freddo un pochino come si poteva. E adesso, visto che questa è zona di trincee, vi porto con me in una delle trincee che hanno percorso i soldati italiani, i soldati austro-ungarici, volontari civili. Eccoci qua. Ci spostiamo piano piano. Questo è il cosiddetto sentiero trincerato lettera A che si dipana. Ed ecco qua. Potendo immaginare che la struttura sia rimasta in parte quella che era e in parte poi insomma con modifiche. Eccola qui. Vi dico che non è una delle trincee di questi luoghi più tra virgolette armata perché rispetto a me, proprio di fronte a me, c'è un'altra trincea che è con pietre. Però guardate. 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 Questa è la trincea. Immaginate il freddo. In estate si godeva comunque di ombra laddove il bosco fosse già presente, ma in inverno, invernigelidici, si riparava nelle baracche. Niente luce elettrica, lumi. In qualche caso sulla marmolada, all'interno della città, nel ghiaccio, per un periodo c'è stata anche la luce elettrica che arrivava da Canazei, con una, si suppone, centrale a vapore. Ecco, guardate la trincea. La seguo. La seguo. La seguo. E qui poi abbiamo la postazione di prima linea, il cannoniere, a 250 metri da qui. Ovviamente ora troviamo le protezioni, troviamo i luoghi e pensate che siamo nel 2024 e che ciò che stiamo vedendo affonda le sue radici dal 1914. Il ghiaccio ha conservato e ora fa riemergere, la natura ha accolto, coperto ed ora in questo silenzio, in questo clima di pace, noi ricordiamo ciò che invece è stato guerra. E la guerra non è mai giusta, non è mai necessaria, ne rimangono ad imperitura memoria queste tracce. Un caro saluto ancora a tutti e a tutte voi dal vostro Andrea Cartotto e a presto!